Allora proseguiamo con gli altri interventi, qui apriamo direttamente al mondo imprenditoriale dando voce ad alcune imprese. Allora, ingegnere Claudio Monforte, CEO e fondatore di Idnamic Italia. Vi siete sviluppati in maniera notevole. Ci racconta un attimo la sua esperienza e poi sul finire dei sette minuti che a disposizione ci sono oggi altre possibilità analoghe, altre nicchie da occupare nei servizi sulle rinnovabili, magari da consigliare a qualche giovane particolarmente intraprendente. Prego. Buonasera e grazie. Innanzitutto devo precisare che non sono ingegnere e lo dico nel rispetto dei miei collaboratori che ne ho tanti, ingegneri di parecchi amici, ingegneri che sono presenti in sala che saluto. Forse mi chiamano, in tanti mi chiamano però ingegnere, qualcuno dice ma come si chiamano? Semplicemente Claudio. Perché la mia attività nasce anche da una provocazione perché ho avuto il piacere o la fortuna di stare nel settore delle rinnovabili e soprattutto nell'eolico dall'inizio, quindi 30 anni fa. E dall'inizio come consulente naturalmente se ne sentivano di tutti i colori, se ne sentono tuttora oggi ma anche a quei tempi insomma, dovrebbero almeno 70 ore per raccontarle un po' tutte. Potremmo scrivere anche qualche libro. E tra le tante provocazioni qualcuno, anche professionista, mi diceva tu perdi tempo appresso alle multinazionali, quelli fanno i loro affari e scappano. E vabbè dico premesso che gli investimenti sono molto importanti e quindi non è che sono proprio alla portata di tutti, ma poi abbiamo scoperto che un impianto eolico, la vita, la durata di un impianto eolico dai 25 ai 30 anni insomma dura. E credo che sia improbabile che in questi 25-30 anni un impianto eolico si gestisca da solo, quindi queste multinazionali non è che poi vanno via. E allo stesso tempo, entro nello specifico di quello che fa i dynamic, noi misuriamo il vento, detto proprio in parole povere. Noi realizziamo tutto il lavoro e lo studio preliminare alla realizzazione di un impianto eolico. E questo lavoro altamente qualificato veniva eseguito da tecnici, professionisti, ingegneri, società che venivano soprattutto dai paesi nord europei e anche dagli Stati Uniti. E questa è stata un'altra provocazione, poi ci vuole sempre la follia per fare le cose. Nel frattempo abbiamo una sede operativa a Pietrelcina a 10 minuti, io sono di San Giorgio della Molara, vivo nel Fortore, dormo tutt'ora nel Fortore. Abbiamo una sede operativa a Pietrelcina e una in Spagna dove da queste due sedi riusciamo ad offrire i servizi ai nostri maggiori clienti che sono i maggiori player del settore energetico, tra i quali RWE che ringrazio, nella gran parte del territorio europeo e nella parte del territorio subsahariano. Abbiamo 50 collaboratori diretti che soprattutto hanno un'età giovane, sono sanniti e restano soprattutto nel territorio. Dico questo perché entro poi anche nella veste istituzionale di Confindustria e approfitto per portare anche i saluti del presidente Vigorito. Dico anche questo perché e vado anche in contraddizione con l'amico Clemente Mastella che alla prossima occasione, alla prima partita, tra il primo e il secondo tempo, animatamente ci divertiamo a discutere, discuteremo anche di questo. Mi dispiace che sia dato via, ma tanto dopo mi manderei il messaggio, già lo so, perché non è vero che il settore dell'eolico occupa poco. Perché noi dobbiamo vedere nel macro investimento dove solo nella provincia di Benevento, numeri alla mano e con testimonianze oltre ai dinamiche, sono stati creati tantissimi studi, tantissimi professionisti che offrono servizi, quello che facciamo noi, ma di ingegneria, service, che sono migliaia di persone messe insieme, io le considero una grande, grandissima azienda. E non solo, questo lavoro non è che lo facciamo solo nel territorio beneventano, anzi io dico sempre lavoriamo dappertutto tranne che a casa mia, la battuta, noi occupiamo, lavoriamo in tutta Europa e così come fanno tanti di quei colleghi del settore. Perché dico questo? Perché noi come provincia di Benevento purtroppo siamo afflitti dal fenomeno dello spopolamento che per correttezza va precisato che lo spopolamento affligge molto le aree interne che vanno dall'Appennino centro-peridionale, dal centro fino al sud e nel Sarnio purtroppo subiamo questo fenomeno. Allora noi che cosa abbiamo come missione, come Confindustria? Di promuovere anche questo settore e avvicinare il più possibile e dare un'offerta di lavoro qualificata, degna e dignitosa soprattutto ai giovani sanniti. Il professore Vaccaro, l'amico Alfredo Vaccaro, prima ha fatto una parentesi, ma la facoltà di ingegneria energetica, la prima facoltà di ingegneria energetica è stata aperta a Benevento, inaugurata nel 2000 se non sbaglio, giusto Alfredo? Non è nata a Benevento per caso. Allora che cosa succede? Che questi impianti, nel frattempo che le multinazionali, qualcuno diceva, scappano, dovranno essere rinnovati e sono già in corso i rinnovamenti e c'è bisogno, perché la tecnologia cambia, migliora, è più performante, c'è bisogno di nuove risorse umane, di nuove figure tecniche che vanno in una parte a sostituire i vecchi perché vanno in pensione, i vecchi addetti, fra un po' andranno in pensione, ma sia Confindustria, e lo dico anche come Haneb, visto che c'è il segretario Davide, abbiamo fatto uno studio che il settore ha bisogno di nuove risorse. Allora come Confindustria che cosa abbiamo fatto? Oltre a promuovere, parliamo con le università, parliamo con le scuole, abbiamo fortemente voluto e sponsorizzato un istituto tecnico superiore che si chiama ITS Academy Energy Lab, che sta a Benevento, sta a 300 metri da qui, dove saranno formati gli studenti, i ragazzi che sono in possesso di un diploma, che possono frequentare anche contestualmente l'università o qualsiasi altro tipo di scuola, e saranno collocati immediatamente nel mercato del lavoro. Questo è quello che noi offriamo nel mercato, questa è la responsabilità sociale che chiunque abbia un potere decisionale dovrebbe assumere. Allora, la ringrazio molto per questo accenno alla questione occupazionale. Alla mia platea do una notizia dei numeri che avevamo calcolato come rivista qualche anno fa. Il progetto di sviluppo dell'eolico offshore attorno alla Sardegna, parliamo di impianti eolici offshore, per cui a distanza di 20 km dal mare, avrebbe prodotto 10.000 posti di lavoro durante la fase di installazione, di cui 5.000 sarebbero diventati stabili, perché le centinaia di paleoliche che c'erano nel progetto originario hanno poi necessità di manutenzione, cura e cose di questo genere. Per cui che le rinnovabili siano a meno intensità di lavoro rispetto al fossile è opinabile. Uno dovrebbe vedere quante persone sono poi addetti alla centrale Federico II di Brindisi, che è una centrale a carbone. Ecco, volevo chiederle però un attimo, Monteforte, di entrare nel dettaglio. Secondo lei, a parte il fatto che mi è piaciuta molto la battuta delle multinazionali che non scappano, e di credo che non scappano, il vento è sta qui, dove vanno, in un'altra regione d'Europa, nel centro della Germania, dove di vento ce n'è molto meno, e cose di questo tipo. Voglio dire, è un po' un life motive che appartiene a un altro settore, che magari è quello automobilistico, dove è fuggita in realtà la principale azienda nostrana, quando è diventata una multinazionale importante. Posso cogliere questa parentesi che lei ha fatto? Prego, mi scuso per il transolino nella scherma, però mi perdoni un attimo, ho assistito a... Lei ha nominato un gruppo automobilistico che in Italia non esiste più, che è anche... Sì, però c'è stata una audizione parlamentare dei Stellantis, che io me la sono legata un po' a... Però noi abbiamo fatto rientrare un ragazzo che lavorava in Ferrari, per carità la Ferrari è orgoglio nazionale, ed è uno dei marchi più prestigiosi al mondo, e chiunque ha il sogno di possedere la Ferrari, un ragazzo della provincia di Benevento che lavorava in Ferrari, e io gli dissi, ma scusa tu lavori in uno dei marchi più importanti al mondo, in uno status, in una leggenda, disse io, tu mi offri lo stesso contratto, tanto per cominciare, il contratto metà meccanico nazionale è quello di Maranelli, quello che sta a Milano, è quello che sta a Piedercine, è quello che sta a Benevento, è uguale perché questo non lo regoliamo, non lo regolano i sindacati con le associazioni di categorie, tra le quali anche Confindustria. Io devo vivere a 80 chilometri da Maranello perché per fittare un appartamento a Maranello mi costa 800-900 euro al mezzo, cioè praticamente fa il morto di fame, mi sono fatto l'esperienza, ma io non vedo l'ora di rientrare, e di questi ragazzi noi ne facciamo rientrare parecchi, altri due ragazzi sono entrati dalla Ducati, sempre orgoglio nazionale per carità, almeno come marchi, ormai la proprietà non è più, ma il nostro obiettivo è proprio quello di far rientrare tutte queste risorse giovani che hanno voluto fare tra virgolette il peccato di gioventù oppure magari perché non hanno potuto trovare un'offerta di lavoro dignitosa, ma vi garantisco che nel settore dell'eolico, e qua in mezzo ci sono parecchie società che lavorano nel settore, non fanno i produttori, non sono multinazionali, ma lavorano con le multinazionali, e quando si lavora con le multinazionali non si lavora per 5 minuti, io sono 30 anni che ci lavoro, un motivo ci sarà. Va bene, la ringrazio.